Ciao, io sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre. Oggi video brevissimo di presentazione di questa nuova piattaforma, Tutto su Linux. Cos'è Tutta su Linux? È una piattaforma con un sito internet ed un forum con lo scopo di aggregare diversi contenuti e diversi autori che trattano temi riguardanti appunto Linux. Allora, la piattaforma è appena nata, nel momento in cui vi parlo e sto caricando il video, la piattaforma non è ancora del tutto sui motori di ricerca, beh, è già su Google ma non altrove. Quindi prevedo che nelle prossime 48 ore la piattaforma acquisti un po' più di visibilità, si spera. Comunque, come vedete siamo su sito, tutto su linux.it, c'è scritto sito in versione beta, non si tratta di beta nel senso dello stato del software, il software è assolutamente stabile. Beta nel senso che siamo in una fase assolutamente iniziale, la piattaforma è assolutamente nata, nel caso in cui la piattaforma abbia poi un discreto successo, magari sarebbe bene trasferirsi su un server più performante. Tutto qua. E allora, siamo sulla home page, Tutto su Linux, benvenuto sul sito della comunità italiana di Tutto su Linux. Ci sono in basso ovviamente gli ultimi articoli, potete trovarli anche sul link qua in alto, ultimi articoli. Se andate su chi siamo, vedrete che al momento siamo in ben pochi, ma come detto vorrei aggregare diversi autori. E se sei uno youtuber interessato a questa iniziativa, per favore contattami e vedremo il da farsi. Ho impostato la cosa ovviamente non come un sito personale, ma come un sito di aggregazione di diversi autori e di diversi contenuti. Va bene, poi se cliccate su forum troverete il forum, come vedete il link è cambiato, adesso siamo su forum.tuttosulinux.it, anche qua vi dice che è in beta. Beta non nel senso di stato del software, beta nel senso che in futuro dovremmo passare ad un server più performante. Comunque funziona tutto alla perfezione. Se andate su novità e annunci, potete vedere gli annunci, potete vedere il regolamento del forum. È un regolamento abbastanza corto, quindi non ci vuole assolutamente molto tempo a leggerlo. Comunque si tratta delle solite regole di buon senso. Dopodiché potete iscrivervi cliccando su questa icona, magari ve la espando un po', ecco qua. Registrati, quindi vi registrate. E poi potete cominciare ad inserire nuove discussioni o partecipare a quelle già esistenti. Come vedete ci sono le diverse categorie, quindi aprite nuove discussioni sulla categoria più adatta. Se si tratta di discussioni generiche, abbiamo anche una sezione discussioni generiche sull'informatica. Abbiamo anche una sezione bar sport in cui poter parlare in libertà di tutto quello che vogliamo. Possiamo fare giochi, passatempi, tutto quello che volete. Sempre restando nel limite delle regole del forum. Va bene, penso di aver detto tutto. Ripeto, se siete interessati a partecipare attivamente, a diventare membri dello staff, contattatemi per favore. E speriamo di farla crescere velocemente questa nuova piattaforma. Quindi vi aspetto numerosi, iscrivetevi e niente, ci vediamo là. Per quanto riguarda il mio canale, penso d'ora in poi di abbinarlo al sito, quindi ogni volta che uscirà un nuovo video, uscirà automaticamente anche un nuovo articolo sul sito. Va bene, questo è tutto. Ciao da Clarintux. Grazie a tutti. Grazie a tutti.